Ciao ragazzi, siamo qui oggi sul mio canale per il videoblog avevo detto che se non riuscivo a fare il video in questa giornata riesco a stare fermo con il telefono che mi verrà da volentare a guardare questo video e farò un videoblog a random, infatti farò questo e basta, quindi ragazzi volevo dirvi che oggi non ho avuto tempo di fare il video e mi scuso con tutti infatti videoblog a random, vedete sul letto quindi ragazzi sì, non ho avuto tempo di fare il video se potete scrivetemi sotto nei commenti su che gioco volete che faccia il prossimo video per play 3 o per play 3 o per play 4 è differente, basta e mi dite il titolo sapete comunque la lista che ho se volete un code per play 3 eccetera basta che me lo diciate insomma, aspetto i vostri suggerimenti io vi ringrazio per la visione io spero che comunque questo mini video vi sia piaciuto mi scuso ancora per l'inconveniente che oggi non è uscito nessun video anzi è uscito ma non di gameplay come avevo detto e quindi ragazzi un saluto da Nikostratrici, vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare sempre un mi piace e un commento sul commento scrivete cosa volete e vi invito ad iscrivervi sul canale che trovate qui sotto aspetta, aspetta così e basta, quindi qui da un saluto da Nikostratrici e vi auguro una buona serata visto che adesso sono le 18.12 del... di oggi che è lunedì quindi ragazzi lo vedete fra pochi minuti e ciao